Il Cosenza Calcio comunica attraverso una nota stampa che ha dato il via all'iniziativa in vista del centenario della Fondazione del Sodalizio Rosso Blu. Nella qualità di presidente della nuova Cosenza Calcio SRL, Eugenio Guarascio si è rivolto alle autorità politiche cittadine e regionali ed ora sta lavorando alla costituzione di un comitato per i festeggiamenti, il più ampio e rappresentativo possibile per una pianificazione e gestione concreta dell'attività della massima espressione calcistica e sportiva della città. La stagione agonistica 2013-2014 che ci vedrà ancora una volta protagonisti nel tentativo di rilanciare l'immagine sociale e sportiva della città di Cosenza nel panorama calcistico nazionale così da ridare alla città il posto che le compete, coincide, dice Guarascio, con il centenario della Fondazione del Glorioso Sodalizio Rosso Blu. Al fine di dare all'evento la rilevanza che merita, la società sindora sta programmando una serie di eventi celebrativi che possano coinvolgere in stretta sinergia squadra, territorio, pubblico ed istituzioni. In particolare, si legge, sono previste iniziative editoriali a carattere sociale e rivolte ai tifosi cosentini all'estero tramite l'appoggio fondamentale dei diversi clubs organizzati che si faranno carico di coinvolgere i nostri concittadini residenti, ad esempio in Canada, negli USA ed in Australia. Il tutto solo per l'amore sconfinato per la maglia e di colori sociali dei lupi. Per quanto riguarda invece il mercato, ieri la società, in concerto al DS Marino, ha incontrato il procuratore Cicchetti per tentare di mantenere gli altri due pupilli rosso-blu, Guadalupi ed Arcidiacono.